Il tuo padre dovesse combinarti a un matrimonio che sceglierebbe. Per quanto riguarda il matrimonio, ci sto pezzando tutto io. Sono stata violentata. Mio padre mi ammazza. Se tu non l'avete trovata, io faccio una strage. Mi ammazzo tutti qua. A Francesco ci hai pensato. A tuo figlio. Come farà senza di te? Mio figlio muore. Ma lo passo in serio? C'è una donna che sta partorendo là dentro. Il bambino si è spostato. Abbiamo bisogno di una mano. Si è messo di traversa. In prima visione assoluta su Canale 5, Nati, ieri, lunedì, alle 21.10. Müller presenta... Il mio bianco. Crema di yogurt bianco Müller. Che gusto sublime. È lo zucchero d'uva. Crema di yogurt bianco Müller. Fate l'amore con il sapore. Opel Meriva. La monovolume più venduta in Italia riparte con un'imperdibile offerta. Meriva 1.3 CDTI da 12.900 euro con incentivi statali. Più tre anni di bollo gratis. Solo a gennaio. Porte aperte sabato e domenica. Ma perché siete così cattivi? McVitis! Salvami tu! Dall'Inghilterra, l'integrale buono. Digestive McVitis. L'originale. Che ti tratta in modo davvero squisito. Anche al cioccolato. Provate il nuovo Biopresto Sensitive. Che unisce all'efficacia di sempre la delicatezza sulla pelle. Non ci credete? Mi faccio vedere io, eh? Forte contro le macchie, delicato sulla pelle. Nuovo Biopresto Sensitive. Lavarsi i denti è importante, ma non sempre possibile. Quando non c'è lo spazzolino, c'è il Dagan Prodex. Tutto a posto? Non pensi che dovremmo rinfrescarci un po' le idee? Kinder Pinguin. Latte e cioccolato per una ricarica freschissima. Ma che vi siete detti? Kinder Pinguin. Rinfresca le idee. È nato Pronto Multisuperficie. Dal legno al vetro. Un solo prodotto è tutto risplendere. Un detergente multisuperficie delicato. Questo è il bello di pronto. Michael, adesso che ti ritiri dalla Formula 1, cosa farai? Forse farò l'antenista. O farò ancora il driver. Hai già provato le nuove Ringo Miniball? L'unico cioccolato alla Ringo. Miniball irresistibili.